Noi come organizzazioni sindacali dichiariamo in continuazione che il personale non è mai sufficiente né dalla parte dell'AS, né dalla parte degli enti competenti, né dalla parte dell'ispettorato, né dalla parte dell'INAIL per fare le verifiche all'interno dei luoghi di lavoro. Nello stabilimento dove tutto si è fermato alle 12.20 di ieri c'è bisogno di azzerare il rischio residuo e avviare le indagini affidate ai carabinieri. L'esplosione ha ucciso tre operai durante il lavoro di demilitarizzazione che nell'azienda è pane quotidiano. Le vittime, due abruzzesi e un molisano, sono Fernando Dinella, Giulio Romano e Gianluca De Santis, quest'ultimo pendolare da Palata, provincia di Campobasso. Allora questa è un'azienda sotto direttiva Seveso che dichiara questa azienda ha un profilo ad alto rischio ma questo assolutamente non deve contemplare la possibilità di perdere la vita dei dipendenti di questo stabilimento. Alla Sabino Esplodenti di Casalbordino sono in corso adesso le bonifiche e le verifiche di sicurezza degli artificieri. I corpi sono stati portati a Chieti e il medico legale aspetta l'affidamento dell'incarico. A Casalbordino non si parla che di Giulio. No, non ce la faccio. Una figlia appena maggiorenne e una vita normale spezzata a 56 anni. Nel 2020 lo aveva salvato un mal di testa e l'uscita anticipata dal lavoro. Era detto che il lavoro è difficile però era un bravissimo uomo, una bravissima mia persona. Amava il suo lavoro. La fabbrica per voi cosa rappresenta qui a Casalbordino? Eh qui è un buon lavoro per quelli che ci vanno perché da quello che sto io danno anche un buono stipendio. Mi dispiace molto però sempre nella stessa fabbrica non si può. Ogni due o tre anni non si può.